Come da tradizione In frazione Pasquaro si celebra Sant'Antonio Abate Abbiamo iniziato un altro anno Siamo nel 2020 Quest'anno cerchiamo di nuovo di fare Molte cose qua a Pasquaro Da Sant'Antonio San Giovanni Adesso dei ragazzi qua a Pasquaro Hanno proposto di fare poi Per San Giovanni qualche cosa Vediamo se riusciamo a portarle in porto Oggi la Santa Mezza La benedizione dei mezzi agricoli E degli animali E poi la solita asta Poi facciamo la solita asta Come tutti gli anni Molta gente mi ha dato Delle cose da mettere In beneficenza per la chiesa Facciamo quest'asta per la beneficenza Della chiesa E poi andiamo A mangiare tutti al Condor Dove si prosegue l'asta Dei prodotti che ho Sia alimentari Che prodotti di lavoro Un modo per cercare di aiutare I parrochi per i lavori Che devono essere fatti con la chiesa Sì per la chiesa di Pasquaro Che ne abbiamo già fatti molti Dalla ristrutturazione interna E adesso spero che Non adesso ma più avanti Si farà anche la ristrutturazione esterna Dando il bianco alla facciata Che è una cosa che vedo che Ha bisogno la chiesa di Pasquaro La chiesa di Pasquaro C'è una cosa che conta Che are gia Ma che voormo La chiesa di Pasquaro è una cosa che trova Che alla città Qu'èヲ Grazie a tutti.